A Casole ed Elza, prima nazionale del taglio del bosco, trascrizione teatrale del racconto scritto da Carlo Cassola nel centenario della nascita. Marco Aghe. I colpi delle accette scandiscono il passare del tempo. Nella foresta del Monte Berignone, nella Toscana interna, al confine tra la provincia di Siena e Massa Marittima, alcuni taglialegna sono impegnati a tagliare una porzione del bosco. Uomini diversi, con età, caratteri e esperienze diverse. C'è la solitudine di Guglielmo, da poco vedovo, la spavalderia di Germano, il giovane cacciatore, e c'è Francesco, che come boscaiolo non è forse un granché, ma è bravissimo a raccontare le storie durante le veglie. E il taglio del bosco, il racconto di Carlo Cassola, messo in scena da Giovanni Guidelli a Casole ed Elza, un secolo dalla nascita dello scrittore, vicino ai luoghi dove la storia è ambientata. Speriamo con questo anche di rendergli un omaggio, ma soprattutto di fare, come dire, riflettere su una cosa, che è il rapporto reale dell'uomo con la natura. Per cinque mesi i boscaioli vivono insieme, fino a quando le loro strade si separano. Un'impresa temporanea, si direbbe oggi, che però lascia il segno. Guglielmo si accorge di essere cambiato, adesso è in grado di superare il dolore della perdita e riprendere il cammino. Nella prima produzione dell'Associazione Culturale Avatar, Guidelli dimostra misura ed efficacia nella trasposizione teatrale del testo. Efficace è affiatato anche il gruppo di attori. Vanni Corbellini, Henry Bartolini, Mirko Batoni, Francesco Grifoni, Nicola Pecci e Gabriele Zini.